Perché parlare di salute preconcezionale e di promozione della salute preconcezionale? Promuovere la salute preconcezionale e quindi intervenire prima del concepimento consente di ottenere e di raggiungere alcuni obiettivi importanti. Innanzitutto mettere la coppia, quindi la donna e l'uomo, nelle condizioni ottimali per un concepimento. In secondo luogo migliorare l'esito della gravidanza e in terzo luogo facilitare il recupero della donna dopo la gravidanza. Quindi parlare di salute preconcezionale significa anche guadagnare salute per il nascituro e una volta nato per il nato. Per parlare di salute preconcezionale però è innanzitutto necessario definire cos'è il periodo preconcezionale. Abbiamo quattro definizioni di periodo preconcezionale, la definizione tradizionale, la definizione che muove da una visione biologica, la definizione che muove dalla prospettiva individuale e infine la definizione che muove da una visione o prospettiva di sanità pubblica. Secondo la visione tradizionale il periodo preconcezionale è considerato quel periodo che comprende i tre mesi che precedono un eventuale concepimento. Questa definizione presenta alcuni limiti perché è difficile stabilire qual è il periodo preconcezionale, lo posso definire solo a posteriori dopo che il concepimento c'è stato e quindi questo può creare problemi per attuare tutti quegli interventi che sono necessari per migliorare la condizione della salute della donna che si sta preparando per una gravidanza. La seconda definizione che muove da una prospettiva biologica indica come periodo preconcezionale quel periodo che comprende nella sua totalità il concepimento, le fasi di sviluppo embrionale, ma anche quindi le prime fasi di sviluppo embrionale, ovvero quei momenti dell'inizio della vita che sono più esposti all'azione di fattori ambientali, e anche agli effetti negativi di alcuni stili di vita, ad esempio il fumo in gravidanza. Ma anche in questo caso i tempi sono molto limitati e non consentono di attuare quegli interventi che richiedono un lungo termine, ad esempio consentire alla donna di arrivare con un peso equilibrato alla gravidanza e quindi ad esempio lavorare sul BMI della donna, cioè sull'indice di massa corporea, aiutando la donna a ridurre il suo peso nel caso in cui sia obesa o sovrappeso o ad aumentare il suo peso nel caso sia sottopeso, perché è importante arrivare anche con il peso giusto all'inizio della gravidanza. Una terza definizione parte invece dalla prospettiva individuale, ovvero si considera periodo preconcezionale a partire dal momento in cui la coppia decide di concepire. Ma anche in questo caso se una coppia che non ha particolari problematiche di infertilità o di sterilità, circa in un terzo dei casi riesce a concepire nell'arco di un mese e quindi anche in questo caso non ci sono i tempi lunghi per attuare quegli interventi che possono riequilibrare la condizione della salute della donna. Abbiamo infine una quarta prospettiva che è la prospettiva della sanità pubblica. Cosa significa questo? Cioè iniziare a aiutare la donna e l'uomo a migliorare la propria condizione di salute riproduttiva a partire dalla adolescenza. Perché? Perché la salute preconcezionale è il risultato di tanti fattori, di tanti tasselli, di tanti mattoncini come dicevo all'inizio. Tra questi mattoncini abbiamo innanzitutto una nutrizione adeguata, un equilibrio nel mantenimento del proprio peso corporeo. In secondo luogo una correzione degli stili di vita ad esempio relativi al consumo di sostanze. Stiamo parlando di sia sostanze come droghe ma anche alcol oppure il fumo. La gestione dei farmaci che vengono utilizzati, i problemi relativi alle malattie sessualmente trasmesse tenendo conto che oggi l'inizio dell'attività sessuale è sempre più precoce e molto spesso anche in condizioni di promiscuità. Ma ancora abbiamo la gestione della condizione di salute generale e quindi la valutazione se ci sono patologie di tipo cronico, la salute mentale dell'uomo e della donna, la condizione e lo stato vaccinale per poi ovviamente anche aggiungere la valutazione e il mantenimento della condizione di salute riproduttiva sia nell'uomo che nella donna. Ed ancora viviamo in un ambiente che è fortemente inquinato e dove molti fattori inquinanti si configurano come interferenti endocrini, quindi come prodotti che possono interagire con l'assetto ormonale dell'uomo e della donna e quindi anche intervenire e ridurre la condizione di fertilità. Ma viviamo anche in un mondo pieno di radiofrequenze e non ci si pone mai il problema di quanto l'uso del wifi, dei telefonini, del bluetooth eccetera possa influenzare la fertilità, in particolar modo la fertilità maschile con un'importante riduzione anche della conta degli spermatozoi ma anche proprio poi del vissuto fertile del maschio.